qualità funzionalità e velocità sono il motore delle attività di stima aumentano i consumi di cibo fuori casa e il settore del fast food deve attrezzarsi per offrire esperienze e sapori di qualità anche in spazi ristretti e senza cucine attrezzate a questa esigenza risponde stima che dal 1995 produce macchine e attrezzature per il fast food l'azienda produce macchine cuoci pasta automatiche da banco forni pizza elettrici forni pizza e gastronomia auto pulenti macchine per friggere piastre a induzione grazie a questa produzione tecnologicamente avanzata e capace di preparare piatti di qualità pasta e pizza per ogni occasione bar paninoteche chioschi pub pizzerie al taglio stabilimenti balneari enoteche gastronomie negozi di alimentari e supermercati possono rispondere al mercato senza l'esigenza di assumere personale specializzato le macchine per la pasta e la pizza di stima raggiungono le attività del fast food di tutto il mondo con particolare presenza in italia europa francia germania spagna nord america sud africa australia e nuova zelanda tutti i macchinari realizzati al 90 per cento in acciaio inox lucido con particolari tagliati a laser sono progettati prodotti da stima con molta attenzione alla parte elettronica che mostra massima affidabilità e robustezza l'elettronica è realizzata con tecnologia smd l'obiettivo di stima è offrire al mercato ogni giorno macchinari di altissima qualità capaci di far lavorare con efficienza e semplicità tutte le attività del settore fast food nella preparazione di piatti veloci come pasta pizza panini e focacce